ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video siamo nella serie in italiano di Genshin Impact sul mio account secondario abbiamo restartato oggi sarà un video più breve del solito anche se finirà all'interno di questa guida dell'account in italiano perché pulleremo per la prima volta sull'account in italiano proveremo a prendere Utao abbiamo praticamente una cosa come quattro multi vedremo cosa esce sicuramente niente però questo account è sprovvisto di 5 stelle tranne G ne abbiamo trovato come ben sapete è la prima volta che pulliamo nel banner evento con quello abbiamo farmato dall'inizio staremo a vedere comunque proviamo per Utao perché Utao è farmabile bene dall'inizio del gioco Yelan no quindi questo è il resoconto delle pull sarà un video molto corto rispetto a quelli a cui siamo abituati di un'oretta di questa serie che riprenderanno la settimana prossima per il momento ci dedichiamo alle pull di oggi qui con me ci sono tutti i ragazzi sono in chat sul sito viola dove vi invito a venire a seguirmi se volete seguire queste bellissime avventure pull non pull esplorazione farm analisi built insieme e tutto il resto sotto 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 troverete appunto tutti i miei link instagram twitter youtube tiktok twitch insomma tutti qui non mancate detto questo io vi ringrazio per la compagnia come sempre per chi guarderà il video e godetevi le pull mentre qualcuno magari ci aiuterà a raggiungere queste 13 mila tiriamo le prime due singole qua siamo a pt8 in questo banner non puntiamo a niente quindi due singole veloci singola numero 1 pt9 tre stelle come potete ben vedere e pt10 perfetto lineare lineare linearissimo siamo a pt0 andiamo a pt10 quattro stelle mi mancano tutti quindi vedremo chi uscirà sono proprio le prime multi su quest'account quindi vediamo qual è il quattro stelle come minimo sarà un'arma e ci griffa tutto il progetto di sicuro di sicuro proprio io me lo sento proprio è un'arma e ci griffa tutto vediamo lo sapevo io me lo sentivo bello il flauto ottimo 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 grazie grazie gentilissimo proprio lo volevo il flauto tanto non so se ce l'avevo probabilmente è un'arma nuova e questo accanto è nuovo ragazzi non c'è niente quindi nuovo tutto nuovo va bene abbiamo usato la multicollista del grittilini adesso possiamo fare questo e prenderci due di queste intanto ok siamo a pt10 in questo bellissimo banner amici miei e andiamo a pt20 20 4 stelle vediamo qui c'è il quattro stelle garantito mi mancano tutti e tre meno male io volevo questo meno male una coppia ce l'abbiamo non ho mi sono espressa non mi sono espressa perché non volevo fare caos però io volevo una coppia di scinchio meno male e il ringhe per barbara è molto buono esatto petti assolutamente meno male meno male buono 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 sono a posto scinchio è best era quello che volevo qua sinceramente ora mi posso uscire anche una coppia delle altre però prima di tutto una coppia di scinchio visto che cinque stelle non penso che ci arriveremo fisicamente proprio cioè è impossibile che in quattro multi esca però almeno così veramente proprio scinchio new four star nuovo quattro stelle ci prendiamo ovviamente altre no non queste ma queste due molto bene pt30 quattro stelle è normale raghi è normale è normale è normale è normale è normale anche in questo account anche in questo account io non ci credo io ragazzi non ci credo ve lo giuro ve lo giuro c1 è la c1 tra l'altro è la prima che costelliamo con una costellazione in questo account pure qui dai c'è un altro quattro stelle del banner adesso speriamo appunto in un altro quattro stelle dai dai che era inizio molti doppio quattro stelle molti sarebbe carino sarebbe ottimo in realtà no vabbè ragazzi anche qua anche qua niente 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 vattro stelle no vabbè vi giuro barbara ovunque come il prezzemolo la chiameremo prezzemolina d'ora in poi barbara prezzemolina allora abbiamo quattordici un fate lo prendiamo e ci prendiamo anche questi qua quindi ne abbiamo 16 ancora ultima multina poi andiamo tutto di singole quattro stelle va bene vabbè ci sta raghi ci sta oh beidu questa ci mancava dai dai questa ci mancava ragazzi ci mancava e abbiamo tutta la multi davanti potrebbe esserci un altro quattro stelle anche beidu è nuova ragazzi anche beidu è nuova quindi un'altra combo sicuramente interessante che possiamo sfruttare quindi beidu molto bene molto molto bene vediamo come prosegue è la prima della multi speriamo in un altro quattro stelle tipo vabbè benet sarebbe la manna dal cielo letteralmente assolutamente sarebbe veramente una figata però non voglio pretendere troppo vediamo un po cosa mi non loro se me ne danno un altro di quattro stelle che magari fanno di schizzinosi e me ne lasciano uno solo quindi vediamo vediamo se ce n'è un altro ok uno stringless che questo è buono questo è molto buono questo è molto buono posso dare a fishel molto bene lo stringless mi sta bene buono nuovo tra l'altro nuovo stringless e anche beidu mi va benissimo anche perché abbiamo il quattro stelle prossimo è garantito e abbiamo un'altra singola abbiamo un'altra singola più un due singolette nel permanente quindi andiamo a fare quelle del permanente prima per fare un attimo di pathos due singole del permanente due singole una la prossima dammelo il quattro stelle è vero che tipo dovrebbe esserci fra altre tre o quattro quello garantito però un anticipato dai su si magnanimo no niente magnanimo no va bene così 41 la buscina 8 4 stelle 9 fin uscito lo stringless a fine multi quindi non credo 42 andiamo ma non è c'è non è c'è raghi 43 ora ci sono i gatti 44 ma prima di farvi i gatti a tradimento vi faccio la singola di la faccio la singola di la prima dei gatti prima di 44 gatti singola di qua non ve l'aspettavate 4 stelle peidu di nuovo c1 di peidu ottimo ottimo costellazione fatta torniamo di qua adesso abbiamo i 44 gatti andiamo 44 gatti niente ultime tre singole 45 45 46 l'ultima l'ultima possibilità per oggi e 47 ultima niente questa per ora la schippiamo ma abbiamo un'altra singola di là quindi andiamo velocissimo fare così 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 di qua di qua di qua di qua niente e niente vabbè andata così vabbè ragazzi questo è l'account secondario che utilizziamo per la main quest tutta in italiano da capo quindi pazienza non importa non importa va bene così va bene così niente abbiamo finito con le pulle qui quindi va bene così io ragazzi vi ringrazio ovviamente chi ha seguito questo piccolo video che verrà in mezzo alla serie in italiano ora ci risposteremo sul mio account principale voi passate su sito viola instagram e tutti gli altri social vi aspetto i link sono sotto e vi grazie per essere stati qua alla ricerca di questa usavo però tanti 4 stelle nuove quindi quelli saranno molto utili li vedremo nelle prossime puntatine alla prossima grazie a tutti